Cos'è stato? Oh, merda. Mi toccherà bruciare questi vestiti. Oh, merda. Grazie a tutti. 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 Devo andare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' ancora più... ? No! Non iniziare. Ho fatto quello che dovevo. Lo so. E... Grazie. Il treno è pronto a partire. A presto! Il treno è pronto. 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 Il treno è pronto.